Spiegami immediatamente perché di nuovo ho quella maglietta Fere Non ti interessa? Allora ti ho già spiegato che per giocare a FIFA non c'è bisogno di avere una maglietta di calcio Sì ma io l'ho messa perché io e Fere De Queen abbiamo ormai un legame indissolubile capito e quindi La scarsezza No non puoi capire Ecco il vostro legame Non puoi capire perché non è un calciatore come te quindi non puoi capire Infatti è un'intera squadra cara mia Che gestisco e che comando Altro che un solo giocatore che sembra Francesco Gabbani E ragazzi come va? Io sono Fere Niki E io sono te perché si dice che è una FIFA E sono prontissima ad iniziare Così carichissima Sono molto felice Allora tanti consolini hanno apprezzato sia la mia maglietta che tu hai criticato come un babbo Sì a Gabbani giusto? Sì e poi molti consolini nei commenti mi hanno fatto notare che il mio calciatore Fere De Queen Ha una somiglianza incredibile con Francesco Gabbani In effetti non l'ho fatto apposta Proprio come l'ho riguardato ho fatto cavolo è vero l'ho fatto molto identico Ci sta abbastanza ci sta abbastanza In ogni caso abbiamo delle partite nuove da giocare Ovviamente ormai l'obiettivo di Fere De Queen è segnare il suo primo gol Quindi sarà il suo obiettivo quest'oggi preparatevi perché ci proverai in ogni modo Io direi una partita, allenamento, una partita Ma spero che già nella prima partita mi butti dentro quella dannata palla Bene sei pronta? Sì Andiamo Allora il tuo primo pallone Non lo voglio io Allora la passo un po' dietro Allora ti ricordi tutto della scorsa partita? Ti devo fare qualche recap strano No allora mi ricordo Non ti preoccupare Per ora le cose che ho imparato Allora so dove devo stare So cosa devo fare bene o male Perfetto Quindi direi che siamo messi abbastanza bene Allora Vede Tieni Vai Tira Tira Ci prova È un po' troppo con calma No 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 Allora il fatto è che mi ha proprio placcato malissimo e non sono riuscita a liberare Vabbè dai diciamo che era il riscaldamento ok Vabbè dai appena iniziato Era appena iniziata la partita non è che possiamo segnare dopo due secondi giusto? Esatto esatto Ok ok Però sono partito bene quindi sono fiducioso che questa partita la vinciamo brutalmente Almeno tu lo dici Avanziamo la diamo a lui Fammi lo scatto Ferre Vado vado Vai Ferre Ma sono in fuorigioco No no tira Tira Uh ancora Ma dai perché mi dovessi rovinare i miei momenti di gloria Ferre te l'ho detto siamo partiti bene Tieni ancora Vado No 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 Peccato no peccato peccato Se la volevo ripassare cavolo Andava bene andava bene andava bene Ok 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 Ferre ci hanno regato a pallo Scatta Corra La do l'altro Vai 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 Segnola solo Tiro Ma dai me la potevi passare Eri fuorigioco Ferre Sì ma come sei arrivato tu ero giusta No eri fuorigioco tutta la vita Però siamo partiti bene Stiamo massacrando la squadra avversaria Basta che mi concentro ce la possiamo fare Anche secondo me Anche secondo me Vogliamo fare un cross No 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 Facciamo passaggi semplici E fa l'orbitro Ferre Stavano passando male questi Sì 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 Allora allora Aspetta che non voglio farli fare una bella azione Ok corro 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 Dai che la recupero Presa Ripartiamo 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 Ci sono ci sono Fammi un bello scatto Sto scattando Vai Ferre Non ho scattato troppo Era brutto il mio passaggio ma brutto il tuo scatto Quindi siamo stati brutti insieme Allora Ferre di qui nel lento Quindi tu devi capito Prima che tu mi dici scatto Devi già essere lì Ok ripassa Va bene andava bene Andava bene Era buono era buono era buono era buono Guarda come la faccio correre Pronta per il cross al centro Pronta per il cross Ferre No ma l'hai tirata troppo dietro Sì 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 Colpa mia colpa mia colpa mia Però Io sono andata proprio scattantissima questa volta Questi qua fanno schifo in difesa Rieciamo a fare un sacco di gol secondo me Ma secondo me neanche uno Allora Tieni Ripassala Brava Sfammi uno scattino Tieni Ferre Tira Dai Cero Cero Non essere triste Gabbani The Queen Su Gabbani The Queen adesso è Sì 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 Guarda come spiccia A due cognomi adesso È disperato È disperato Sì è una cristissima Stai dicendo ma perché c'ho questa qui che mi sta comandando È già il terzo gol che mi fa sbagliare Non mi poteva capire qualcuno di più bravo invece mi capire Però guarda la valutazione in basso a destra Siamo già a un 6.8 Eh sono partito ti ripeto da un 5.5 che era bassissimo E quindi dai diciamo che non sto andando così male Già no no è già recuperato Corri Scatto Scatto No scusami Torna indietro torna indietro torna indietro Vai in fascia Ho sbagliato Ti faccio un cross Pronta al centro Pronta al centro Sono pronta Quattrotto Sì E il Gabbani la butta dentro Vai Gabbani Sì Cioè è il gol Più brutto di sempre Però è un gol Però è un gol Capito? Quindi va benissimo Va benissimo Ferede qui in cima al Cagliari Cioè se diventerà un giocatore fenomenale Verrà preso in giro per sempre Per il suo primo gol Te lo dico Perché era un qualcosa di davvero 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 brutto L'importante è fare gol Comunque Questa squadra è fantastica Ci fa fare un figurone Ferede Sono scarsissimi E Ferede qui Arriva a 8.2 8.2 8.2 Devo tenerlo perché è importante Tenere una buona media nel campionato Quindi devo cercare Ma non siamo ancora nel campionato Ferede Come no? No sono le vacanze estive queste Non mi ha ancora fatto iniziare il campionato No Ferede per quello tu Fai qualcosa di buono Perché stiamo sfidando squadre scarse Che non stanno ancora giocando il campionato Sono partite inutili e amichevoli Cioè ma io pensavo che questo fosse l'inizio del campionato No Neanche le abbiamo iniziato Allora non gioco più Basta Ferede Basta Serve Che senso ha giocare se non puoi competere Per dimostrare al tuo allenatore Che puoi giocare in campionato Ah se non mi mettono in panchina Esatto Allora l'allenatore guarda un 8.2 Ok devi continuare a fare della bella roba Perché altrimenti Ok ok sono concentratissima Ma secondo te in campionato era così facile segnare e vincere le partite Mi sembrava strano Eh Però ho detto magari sono troppo brava io No 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 fidati Non sei per niente troppo brava Fallo Arbitro per favore Ecco è che se no picchio anche io Allora Ferede ci siamo Se voi ci sono io È tutto molto buono No Ferede Io sono molto brava Ferede ti danno brutti voti se fai falli Ah no giusto Devo tenere una buona media Esatto Se non mi mettono in panchina Allora vai in fascia Cioè al centro scusami Tieni Scusa ho sbagliato tutto Ho sbagliato No ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto Inizia il secondo tempo Siamo ancora 1-0 Stiamo stravincendo Mi sa che non hanno ancora fatto un tiro in porta In grazia di Dio Quindi davvero davvero fantastico Ma non male che stavolta ci è capitata una squadra Se facessi la doppietta Cosa vuol dire? Due gol Era ovvio Doppietta cosa poteva essere? Una pistola Ho pensato fosse qualche tecnica strana Non si sa mai Non è Dragon Ball eh Si chiede sempre Si chiede sempre A questo punto fai bene Se hai questi dubbi in testa Fai bene a chiedere Comunque si la doppietta sarebbero due gol Ci proviamo Siamo partiti bene Abbiamo avuto tante occasioni Quindi secondo me è fattibile Ripassala Brava Adesso fammi un bello scatto Sto scattando Non ho più fiato Brava Eh si con calma Con calma Con calma Ok Ok Nooo Troppi inietro Sono troppi Sono troppi Torniamo un po' inietro Torniamo inietro Ok Con calma Con calma Vedo quella fascia parecchio libera Infatti lo faccio scattare Pronta al centro Pronta al centro Sto spingendo Ho notato Ci sono Ci sono Mamma mia Sono un po' Un po' arrabbiassini Rimessa Te la ricordi la tattica della scorsa partita? No La passo qui E cross subito Quindi tu pronta di testa Togliti tu Va bene Vai Fede Uh ok Ma che schifo di tiro Di testa non sei molto forte Come giocatore La capoccia non va bene Va migliorata la tua capocetta Devi correre di più E migliorare la capoccia Sono i tuoi difetti più grandi Quindi ci lavoreremo Ci lavoreremo Ho problemi di testa In tutti i sensi Quindi ok Esatto Allora facciamo così un cambio di gioco Ci spostiamo di qui Ci spostiamo qua Ritorniamo in fascia Ok La diamo a lui Torniamo un po' dietro La passiamo qua La diamo a lui La diamo a Fere Fere passala di nuovo Troppo lenta signorina È lento a tirare Sei scesa a 8 Ma non dovevi tirare? Allora io ti ho premuto X Sul tuo giocatore Ma lui è lentissimo A girarsi È lenta a passarla È a tirare i passaggi A tirare i passaggi I passaggi si passano Non si tirano I passaggi si tirano E quindi è lento Vabbè Vabbè Non voglio continuare Questa discussione Non mi contraddire Se no me ne vado via Ok Fere Ma sono qui giù Lo so Tini Bellissimo Fuori gioco Fere Lì dovevi stoppare Quindi toccarla E poi tiravi Non tirare di prima Ok Ok Hai sprecato un'occasione bellissima Ma non eri in fuori gioco Non eri in fuori gioco E come funziona il fuori gioco Devi essere Vabbè non me lo spiegare adesso Un altro momento Sì Sta suonando il violino Vai bravo Bravissimo Ma che Che tamarragine Nell'esultanza Però eh Se mi sto suonando il violino Lo dico io È assegnato di capoccia Per di più È migliorato Della capoccia È migliorato Che bello Che emozione Quanto abbiamo pagato Questa squadra Per farci vincere così tanto Non lo so Quella hai pagata tu Guardalo Ma hai visto come adesso si atteggia Si crede un bravo calciatore Dimmi il voto in basso a destra subito Secondo me siamo a 9 Un 9 9.1 9.1 Manteniamolo Manteniamolo Perché è buonissimo Concentrazione Allora Ok 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 Comunque dicevo Il fuori gioco Ce l'hai Quando superi L'ultimo difensore loro Prima però che io la passi Non l'ho capito Lascia stare Un altro giorno Ti farò un disegnino Alla lavagna Ok Allora il fuori gioco Me l'hai spiegato almeno 15 volte Nella mia vita Non l'ho mai capito Come pretendi che lo capisca adesso Che sono pure concentrata a segnare A tenere il mio 9.1 Cioè scherzi È più importante Nel capire il fuori gioco D'attaccante È importantissimo Però potremmo fare il clickbait Spiego alla mia ragazza La tecnica del fuori gioco Io non sono la tua ragazza Sono Fere De Quino Un calciatore Super virile E super bellissimo Va bene Fere Va bene Fere ti stanno spingendo via Spingi un po' anche tu Dai Spingi Fere La scena più imbarattante Cioè lo stai facendo vincere Del calcio Fere stai facendo vincere fisicamente Brava Vai 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 Fere di testa Ok il portiere Portiere Va bene Usare le braccia Più alto Bravo portiere Se sei felice Hai dovinato una scena divertente Mi fai uno scatto per favore Sì Sì Tieni Beh È stanco ormai È stanco È stanco Siamo al novantesimo Non riesci più a correre come un tempo Se mi fai stancare troppo Poi mi mettono in panchina Quindi adesso io faccio finta Di avere ancora un sacco di energie Ok Perché non voglio finire in panchina Va bene Quindi devo far finta Di essere ancora super energetico E super pronta È finita? Ti ha buttato fuori Ecco qua Cosa ti avevo detto? Te l'ho detto Che non mi devi far stancare Con scatti inutili Cioè te l'ho detto Vabbè Bene eravamo al novantesimo Ci sono due minutini Allora Ti ha fatto uscire Per farti avere la stand innovation dal pubblico L'allenatore ha impedito di fare una tripletta a Ferre de Queen Ricordiamoci di questo Verrà licenziato quando io sarò famosa Gli rovinerò la vita Mia cara Ferre Ti devo insegnare una cosa molto importante Quando i giocatori iniziano a segnare Pensano di essere i più forti al mondo Cos'è il torello? E smettono di allenarsi Quindi io ti voglio insegnare quest'oggi Che anche se hai appena fatto una partita molto bella Allenarsi è ancora importante Quindi adesso ti devi concentrare E far bene tutto all'allenamento Ok Allora il primo allenamento è con il dribbling Vada pure E si diverta perché Cosa devo Allora No aspetta cos'è? Li posso buttare giù però Scusami non volevo Non volevo farti cadere Ferre Puoi continuare il pallone Vedi vai 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 Brava Bravissima Ok senza le due Veloce Esatto così così Brava Va bene va bene va bene Anche se lui ti supera un po' Va comunque bene L'importante Ok ok Esatto è che tieni Entra dentro Adesso devi cercare di dribblarlo E di segnare Come? Con che tasto? Ce l'ha Sono un genio del male Devi andare a prendere Quell'altro pallone lì al centro Sono un genio del male Vai Ora devi dribblare tutti questi Come li dribblo? Cerca di Mi danno cannonate Schivali Schivali Tipo acceleri all'improvviso Brava brava Bravissima Ok ok non è male Continua a provare Continua a provare Vai 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 Ancora un sacco di tentativi Vai Ferre Uii Guarda come sto Uno l'hai fatto Peccato Ma che cavolo Tu che mi rovini la scena Vai devi segnare adesso Vai Questo lo so fare Ho visto Aspetta Riprova Vai Ferre devi continuare Eh basta Credo No C Cdc sei quasi Ok Prossimo esercizio Sono andato bene Non è stato troppo emozionante Ma è stato normale Ho segnato anche prima di te in quella parte Era un'allenamento Vabbè quella è stata una fortuna incredibile No era tutto programmato Vai nel prossimo Allora questo io lo chiamo L'inferno Praticamente L'ho chiamato orello Esatto Come funziona il torello Ci sono delle persone in cerchio Si passano il pallone tra di loro velocemente Tu devi cercare di rubargli il pallone No Devi correre come se fossi un cagnolino che vede una pallina Vedi Ma è cattivista Lo so Allora io sto ferma ad aspettarlo ad uno Non funziona perché smettono di passargli Ma dai Non è giusto Che cattivoni Ok ok avete fatto mille punti Vai 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 Perché anche se il tuo compagno comunque le intercettava bene Quindi cerca di pressare Non dove va il tuo compagno Ma da un'altra parte Ok Dove potrebbe andare il prossimo passaggio Ma cavolo No questo è troppo Ingegnati Ingegnati Cerca di capire dove entra il prossimo passaggio E corri verso di lì Più in fretta fai meglio è Precisa Con calma Bravissima Ok Te l'ha presa Non può neanche toccarla lui È già fallito No voglio riprovare Mi piaceva questo Mi piaceva Ok vai Brava Continua Ok Stavo andando spaccato a prenderla Continua Bravissima Bravissima E visto come se tu ti metti verso Se tu miri la direzione verso dove devi passare Hai notato che la passa anche meglio Questo è utile per le partite Sì infatti sto cercando Perché spesso tu li fai fare tutta una giravolta Che gli complica la vita Feredi qui non mira Non mira vedi che io miro Vedi che io miro Sì sì Vedi che io Voi Boom Basta dai Dobbiamo fare ancora No guarda È stato fin troppo Dai me li hai fatti fare un po' troppo complicati però Dovevi farmi ancora Migliorare le basi Per poi passare Sì era per farti tornare l'umiltà Ok Perché se no poi mi impazzisci Pensi di essere fortissima E smetti di allenarti Di giocare bene E così via Quindi per farti tornare un po' di umiltà Stavo già facendo le mie magliette autografate Da Feredi qui Da mandare i consolini Però non è giusto Ecco vedi vedi Quindi questo allenamento Vuoi distruggere i miei sogni È servito per farti capire Da calciatore Che ancora non sei brava Capisci In ogni caso ci fermiamo così Nel prossimo video ragazzi Iniziamo il campionato Perché finiremo le partite fuori dal video Dato che sono facili e noiose Queste prime partite dell'estate Quindi inizieremo con la prima partita di campionato Non so neanche se Feredi sarà titolare O partirà dalla panchina Certo che non sarò E quindi avrà solo 20 minuti per giocare Non ne ho idea Quindi preparatevi Perché può succedere di tutto Nel caso lo uccido L'allenamento In ogni caso Continuate a supportare la serie Con tanti likes Tanti commenti Tanti sondaggi Speriamo che vi piaccia Questa serie Secondo me È davvero divertente Diverta la solita E poi dai Zoom sui baffetti di Ferede Queen Per convincerli A far continuare la serie Mentre dormi vado No non puoi Ormai ce li ha proprio stampati Non è più Ferede Queen Se li togliamo Esatto E quindi dicevo Per convincere a continuare la serie Zoom su baffetti Va bene Comunque ci fermiamo così Bella che ci riesci così Ciao ciao Sciendoci un like E se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Ciao